si possa consegnare questo trofeo offerto appunto dalle terme di Castrocaro trentesima edizione a Antonietta Bucci Grossi e a Valerio Spazzoli l'augurio di tanta luminosissima carriera come tutti quelli che abbiamo ricordato grazie davvero, vogliamo consegnarli per favore, grazie al comandatore dottore Schiavo, ecco la prima, questa per le fotografie di rito così come è avvenuto per Antonietta Bucci Grossi questo è il momento importante per questi due ragazzi gli facciamo un altro grosso applauso, li salutiamo grazie anche al dottore Schiavo arrivederci, però non è finita, non è finita signori io vorrei una musica particolare che abbiamo nel cuore dobbiamo veramente dire grazie agli amici della Barilla hanno dato un momento in più con l'orchestra e sono convinto che con il loro apporto, con il loro modo di seguire i giovani così come stanno facendo in tutte le manifestazioni gli amici della Barilla stiano dando grandissime occasioni grande emozione, grande bravura grazie all'orchestra e quindi in questo momento Barilla le due targhe che possono rappresentare una portafortuna ideale ricordatevi che con la Barilla vicino tanti giovani anche nel corso dei mesi e degli anni passati hanno ottenuto un grande successo grazie a Barilla quindi anche da parte di Antonietta Bucci Grossi e da parte di Valerio Spazzoli grazie davvero riuscirai a portarle tutte e due io vorrei a questo punto ringraziando ancora una volta gli amici della Barilla vorrei avere accanto a me anche gli altri quattro finalisti se è possibile per arrivare a questo finale perché è un finale che dobbiamo stringere accanto a me una vera protagonista Gigliola Cinquetti che salutiamo con questo applauso e che ringraziamo di cuore della sua presenza Mauro Micheloni un grazie Mauro per la tua presenza con questa connice un saluto anche a tutta l'organizzazione che è stata davvero strepitosa grazie alla Barilla grazie a Castrocaro Terme per la sua ospitalità grazie alla regina di Gianni Vagliano a tutto lo staff tecnico è la grande organizzazione che ci permette di aiutare questi giovani l'appuntamento è per la 31esima edizione qui dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme da Claudio Lippi l'augurio più sincero di buona prosecuzione buonanotte e buona fortuna alle voci nuove ciao buonanotte buonanotte Grazie a tutti